Raramente capita di realizzare uno spazio informativo per l'amministrazione provinciale, ma direi in generale in un posto così suggestivo. Assessore Cutini siamo infatti nel forte di Monte Domenichi, nel comune di Cavriglia, all'interno dell'area Monti del Chianti, della quale la provincia ha la gestione che ha realizzato anche, diciamo così, ha dato la possibilità di rivedere questo che è un autentico gioiello che però è inserito in un contesto più vasto. Sì, un intervento della provincia negli angoli più remoti del nostro territorio, remoti ma anche particolarmente suggestivi. Questo forte medioevale che è stato per lungo tempo abbandonato è stato riportato alla fruizione della popolazione, in particolare della comunità di Cavriglia, ma in generale nelle intenzioni nostre, di tutti i cittadini che sono interessati a questo incontro tra monumenti e natura. Questo intervento fa parte di una serie di numerosi interventi che abbiamo in programma di fare nell'ambito del piano di gestione che abbiamo approvato su questo patrimonio dei Monti del Chianti. Sono interventi importanti perché conservano la ricchezza di questa Toscana, spesso una ricchezza dimenticata, ma che riteniamo possa avere notevole importanza, prima di tutto, per l'identità anche delle varie comunità e soprattutto anche in vista di un utilizzo turistico e ricreativo che riteniamo possa essere un importante valore aggiunto per molte parti collinari e montane del nostro territorio. Purtroppo una sottolineatura che dobbiamo sempre fare, ma anche in questo caso è un rammarico ancora più grande, e vista la bellezza del luogo ci sarebbe la possibilità di investire ancora con fondi comunitari, il patto di stabilità lo impedisce? Questo è un tema continuamente una spina nel nostro fianco e credo anche delle nostre comunità e dei cittadini che rappresentiamo, perché questi sono interventi che abbiamo già progettato, sono possibili anche sovvenzioni da parte dell'Unione Europea. Questo patto di stabilità, questo cappio al collo, purtroppo ci obbliga a rinviare. Noi speriamo comunque di poter realizzare questi interventi nel tempo più rapido possibile e per questo continuamente facciamo riferimento alla rimozione o allentamento di questi vincoli, perché a volte rendono veramente impossibili anche interventi particolarmente qualificanti come questo.